Sono state inaugurate ufficialmente ieri pomeriggio le luci d'artista 2024 a Salerno. La cerimonia si è tenuta nella villa comunale alle 17, successivamente alle 18.30 l'accensione delle installazioni in piazza caduti civili di Brescia ha dato il via al percorso nella zona orientale. Le installazioni luminose saranno visibili ogni giorno dalle 17 alle 2 del mattino, arricchendo la città di magie e colori fino al 2 febbraio 2025. L'accensione dell'albero in piazza Portanova verrà invece venerdì 6 dicembre. Attesa già dalla mattinata con tantissimi turisti i quali si sono riversati nella zona centrale per attendere l'inaugurazione in villa comunale con le luci che si sono accese sulle note musicali degli strumenti del coro del teatro municipale Giuseppe Verdi che hanno intonato canti natalizi per inaugurare al meglio le festività. Insieme ad alcuni esponenti dell'amministrazione comunale di Palazzo di Città c'era il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ma non il presidente della regione campagna Vincenzo De Luca, atteso invece il prossimo venerdì per l'accensione del maxialbero in piazza Portanova e di altre installazioni luminose posizionate nella centralissima piazza Flavio Gioia. Intanto sul tabellone delle prenotazioni per uno stallo di bus turistici si è arrivati a quota 100 con un weekend che si prospetta caldo dal punto di vista delle presenze in città nonostante le basse temperature invernali e il forte vento che ha soffiato nel pomeriggio. Siamo arrivati alla diciannovesima edizione. La manifestazione gode di ottima salute, assicura il primo cittadino di Salerno. Anche quest'anno, prosegue Vincenzo Napoli, illuminiamo la città di Salerno in modo scintillante, sapendo che oltre alle luci d'artista ci sarà la possibilità di ascoltare ottima musica e partecipare a tante altre iniziative pensate per soddisfare i gusti dei miei concittadini e dei tanti visitatori che ci auguriamo arrivino numerosi. Ci saranno fiabe per i bambini, i concerti, insomma un calendario ricchissimo, un lunghissimo programma che sarà possibile consultare direttamente. Il presidente De Luca anche quest'anno ha sostenuto questa iniziativa che punta a favorire il commercio e il turismo. Guardiamo con attenzione alle spese dei nostri turisti, alle mete che scelgono. Siamo al decimo posto in Italia, un risultato lusinghiero. Inoltre, continua il sindaco Napoli, la tassa di soggiorno ha raggiunto risultati inaspettati, la stazione marittima ha adottato una nuova governance, razionalizzando le proprie funzioni e l'aeroporto di Salerno a Costa d'Amalfi sta crescendo in modo evidente. Mi pare, conclude il numero uno di Palazzo di Città, che ci siano tutti i presupposti non solo per il successo di Luci d'Artista, ma per una prospettiva di turismo solida ed in continua crescita. Grazie a tutti.